In accorto, in programmazione, come facciamo ogni anno, con il consorzio di Bonifica 23 sono stati fatti gli interventi di pulizia d'Italio e spalcio dei corsi fluviali e in particolare ovviamente è stato ripulito completamente il torrente Ciuffenna poi sono stati ripuliti il borro delle ville, il borro di Riofi e quello di Piantravigne interventi che garantiscono un corretto ricorso delle acque un riflusso verso l'Arna in maniera da garantire la raccolta anche di tutti i canali di scolo dei terreni e delle strade in maniera da cercare di avere un impatto più gestito possibile ringrazio anche il consorzio perché è stato puntuale davvero e ha eseguito un greco lavoro e niente, contiamo, speriamo che il maltempo non crei eccessivi problemi